Comunque questa settimana non ho giocato e quindi sono andata a vedere le mie compagne e sono molto propositiva perché comunque... Non ha giocato e quindi per questo che abbiamo vinto. Abbiamo vinto questo e sono propositiva perché abbiamo fatto un buon fine settimana, abbiamo giocato sempre secondo me al top, nonostante magari all'andata queste squadre ci avessero dato un po' di filo da torcere, però secondo me al ritorno in queste partite siamo state molto più brave e siamo riuscite a vincere subito, comunque aggredirle subito e quindi sono molto propositiva per questo weekend. No, allora lunedì abbiamo giocato il ritorno di Coppa Lombardia e gli ottavi e abbiamo vinto il set che ci serviva, poi abbiamo perso la partita da 3 a 2 e siamo passati ai quarti di finale, incontreremo una squadra di Pavia, cosa dici di questo risultato che tra l'altro era anche abbastanza inaspettato? Beh, io sono soddisfatta perché come stava andando all'inizio del campionato in Coppa, perché noi abbiamo fatto le prime partite verso fine settembre, stavamo andando molto peggio rispetto adesso, invece comunque con il passare del tempo e facendo molte partite secondo me il gruppo si è unito, in generale tutte 12, tutte 13 siamo molto unite e quindi stiamo migliorando un sacco in tutti gli aspetti, sia secondo me tecnicamente che caratterialmente e quindi da un lato forse me lo aspettavo di passare in Coppa. Niente, noi giocheremo contro il Davis che è in un gran stato di forma, tant'è che ha vinto le ultime partite contro le prime in classifico, lo sono seconde, hanno giocato contro il Piedra, hanno vinto 3 a 1, hanno giocato contro il Villanova, hanno vinto 3 a 1 e pertanto ci troveremo di fronte a una squadra ben agguerrita in forma smagliante e vediamo noi quanto siamo bravi a competere con loro e magari portarci a casa qualche setto o addirittura la vittoria secondo te? La vittoria. La vittoria, o tutto o niente? Esatto. La vittoria, o tutto o niente? La vittoria, o tutto o niente? La vittoria, o tutto o niente? Grazie.